Fatture false per raggirare lo Stato, l'ennesima truffa scoperta dalla Guardia di Finanza a Crotone, denunciato un imprenditore agricolo, titolare anche di un agriturismo. Le fiamme gialle contestano all'uomo di aver messo in atto una rendicontazione fraudolenta, un sistema finalizzato a percepire illecitamente un contributo regionale di 166 mila euro, danno erariale segnalato dagli inquirenti alla Corte dei Conti. L'attenzione dei finanzieri si è concentrata in modo particolare sulla posizione di una società di persone individuata a seguito di una precedente verifica fiscale eseguita nei confronti di un suo fornitore evasore totale, accertamento che ha permesso di rilevare che il fornitore, pur non presentando le proprie dichiarazioni fiscali, aveva emesso fatture per importi significativi riguardanti i lavori di ristrutturazione dell'azienda agricola, quale suo unico cliente. Dai riscontri eseguiti dai finanzieri, pur in assenza di scritture contabili, e grazie al controllo incrociato effettuato nei confronti della stessa azienda agricola, è emerso che si trattava di fatture per operazioni inesistenti sotto il profilo oggettivo e soggettivo. Le indagini così si sono necessariamente stese anche all'impresa committente. Dai riscontri è venuto fuori che quest'ultima aveva beneficiato di un finanziamento pubblico erogato dalla Regione Calabria per il restauro, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale regionale, interventi di fatto eseguiti. Le false fatture quindi non erano state utilizzate solo per ragioni di risparmio fiscale, ma anche per la rendicontazione delle spese sostenute nell'ambito dell'iniziativa imprenditoriale che aveva usufruito delle agevolazioni regionali. La Guardia di Finanza ha proposto all'autorità giudiziaria il recupero delle somme indebitamente percepite.